salve ragazzi sono al CERN di Ginevra uno dei templi della ricerca mondiale sono qua e volevo sponsorizzare l'attività di giornalisti in erba una delle attività più fighe che conosca infatti secondo me giornalisti in erba è una delle cose più belle per creare una bella cultura scientifica e in campo ambientale partendo dai giochi un saluto a tutti quanti ciao Grazie a tutti